Ciao, qui Antonio Panico, Business Coach e fondatore di Business Coaching Italia, ma anche Business Coach dell'Anno, sono stato eletto Business Coach dell'Anno da SEO Management Consulting Award 2021, è la prima volta che questo premio così importante arriva in Italia nel campo del coaching. Ti sto facendo questo video perché voglio parlarti del Business Coaching, si fa un gran parlare del Business Coaching in questo periodo. Il Business Coaching non è mental coaching fatto agli imprenditori, professionisti o ai manager, assolutamente no. Il Business Coaching nasce dalla consapevolezza acquisita parlando con i miei clienti che mi chiedevano di aiutarli a mettere insieme quei processi che loro sapevano di dover mettere su, ma che non riuscirono perché non sapevano come fare. Quindi stiamo parlando di un modello di Business Coaching, quello di Business Coaching Italia, che è basato su una disciplina scientifica e che abbina la consulenza di processi al coaching. Ti voglio far vedere il manuale, questo qui è il manuale delle protocolli strategici e operativi di Business Coaching Italia, dove ci sono 300 pagine di protocolli, che sono nient'altro che tutto il mio know-how tecnico derivante dall'esperienza di manager e di coach che ho raccolto in questi anni. Un manuale che costa di 300 pagine, di numerosissimi protocolli che un coach deve essere in grado di replicare. Ma non solo, sappi che i coach della mia accademia, oltre ad essere imprenditori, professionisti e manager, oltre ad aver studiato 18 mesi, quando seguono il mio cliente, sono supervisionati da un coach senior. E facciamo questo tipo di attività supervisionando e assicurandoci che il coach stia facendo un buon lavoro e stia portando il cliente a raggiungere risultati, perché crediamo davvero che con questa attività possiamo aiutare le imprese italiane a crescere e ottenere grandissimi risultati. Quindi se stai cercando un coach che ti aiuti, fattivamente, praticamente, nel portare avanti la tua azienda, Business Coach in Italia è l'azienda per te. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Antonio Panico.